Gentili organizzatori di Flussi Diversi 2011, gentili signori e signori, desidero ringraziarvi di cuore per l'invito all'apertura della manifestazione Flussi Diversi 2011, porto i miei saluti dal segretario generale della comunità di Alpeadria, il dottor Wolfgang Plazza, che oggi non è presente in quanto alla commissione dei dirigenti della comunità di Alpeadria a Zagabria e poi dovrà appunto avere una conferenza a Bruxelles l'indomani. Grazie per l'invito alla prossima settimana per l'invito alla prossima settimana per l'invito